Eccoci qui, ci siamo. Oh salve, mi spiace, siamo un po' in ritardo. Ah, scusate un attimo. Ehi Bob, al volo! Scusa amico. Benvenuti a Culture in Decline, sono Peter Joseph. Questo show è pensato per quelli che sono delusi dell'attuale società perché forse siete come me. Quando vi imbattete in quello che noi chiamiamo società globale. Forse proverete un senso di disagio, ma anche di frustrazione sul modo in cui noi esseri umani ci siamo organizzati su questo pianeta. Il compianto astronomo e sostenitore del pensiero scientifico Carl Sagan, nella sua famosa serie di documentari Cosmo, ha posto una domanda. Se fossimo visitati da una specie superiore di un'altra parte della galassia e fossimo costretti a spiegare loro come amministriamo il nostro pianeta, per non parlare dello stato delle vicende umane di oggi, saremmo orgogliosi di quello che descriveremmo? Come potremmo giustificare il fatto che più di 3 miliardi di persone sopravvivono a malapena in un'estrema povertà e malattia? Oppure stanno morendo, a un ritmo di una persona ogni due secondi? E tutto ciò si verifica sulla scia di una realtà tecnologicamente avanzata, nella quale potremmo facilmente nutrire, vestire e dare riparo ad ogni famiglia sulla Terra, con uno standard di vita rispettabile? Come potremmo giustificare la guerra globale? 230 milioni di persone uccise dai propri simili negli ultimi cento anni, per questione di territorialità, risorse e ideologie dogmatiche obsolete? E ancora tutto questo si verifica alla luce di un concetto scientifico, cioè che l'umanità è una famiglia che condivide un'unica casa, che siamo vincolati dalle stesse leggi della natura e quindi dalla stessa unificante ideologia operativa. Che dire del nostro sistema economico, fondamento di ciò che definisce la nostra società, per non parlare delle nostre motivazioni dominanti? Come spiegheremmo il fatto che anziché organizzarci in modo efficiente, come un unico sistema per gestire sapientemente questa casa che condividiamo, ci separiamo, ci combattiamo e ci sfruttiamo in modo puerile l'un l'altro, attraverso un gioco arcaico totalmente scollegato dall'ambiente, un gioco tra l'altro che non solo sembra perpetuare un vasto spettro di atrocità sociali, ma che ora sembra stia ulteriormente destabilizzando la società, riducendo la salute pubblica. Mi dispiace dirlo, non mi interessa quello che pensate, ne lo rispetto più di tanto. Perché? Perché in realtà non rispetto neanche ciò in cui credo io. Non ci sono prove per dimostrare che i valori tradizionali, istituzioni, strutture sociali o pratico comuni che abbiamo oggi saranno ancora rilevanti domani. L'unica cosa che sembra resistere alla prova del tempo è questa stessa nozione di cambiamento, la comprensione di noi stessi e del mondo in cui viviamo. Forse qualcuno potrebbe pensare che questa, in realtà, sia la definizione di intelligenza umana. Cosa ne pensate? Meno ne sappiamo e maggiormente siamo vulnerabili. Così, quando guardate fuori dalla finestra chiedetevi vedete intelligenza o dogma? Vedete una cultura che ascolta e che tende ad allinearsi agli ordini naturali via via che si rivelano? O vedete sforzi disperati e ostinati, specie da chi si trova in posizioni di potere, cercando di mantenere tutto uguale a scapito dell'intera esperienza umana? Sai, come te, io potrei essere solo un membro di questa famiglia che ora conta 7 miliardi di persone e come molte famiglie qualche volta è difficile andare d'accordo. Ma a volte le cose vanno così male che c'è bisogno di un intervento serio. Questa serie rappresenta quell'intervento, sperando di salvare ciò che è, ovvero una cultura in declino. E' l'anno delle elezioni negli Stati Uniti. Sembrerebbe l'anno delle elezioni per tutto il mondo. Tutt'ora il sistema politico degli Stati Uniti ha speso 25 miliardi di dollari solo nell'ultimo decennio. Una tale somma, se ripartita annualmente, potrebbe nutrire e dare una casa ai senza tetto in America, ponendo fine all'equidemia. Forse alla fine di questo programma scoprirete che il denaro verrà speso in modo migliore. Sia come sia, le presidenziali del 2012 si annunciano tra le più dispendiose e tra le più importanti di tutti i tempi, visto l'attuale crisi del debito e la disoccupazione e la vasta destabilizzazione della società. Tuttavia non sono particolarmente interessato alla sinistra o alla destra, né al merito politico di alcun candidato. Ciò a cui sono interessato è l'idea di democrazia globale, di come esista da sempre e di come sia ciecamente accettata dalla maggioranza delle persone del pianeta come se fosse l'unica possibilità per soddisfare gli interessi di tutti e creare benessere. E quindi una gestione della società nel suo stato ottimale. Questo è ciò che mi interessa. Quindi, anziché discutere su chi debba essere il prossimo presidente, perché non facciamo un passo indietro e consideriamo domande più ampie? Come ad esempio, non so, forse, perché abbiamo un presidente, tanto per cominciare. Cos'è? Feudalesimo medievale? Pensavo che i giorni dei re, dei dittatori e del dare molto potere a una persona fossero giunti al termine. O più generalmente, non sembra un po' assurdo pretendere una democrazia partecipativa quando il pubblico stesso non ha alcuna voce. Quando si tratta di decisioni effettive prese da coloro che sono stati eletti, è abbastanza sbagliato che coloro che sono stati votati non abbiano alcuna responsabilità legale di fare quanto sostenuto nella campagna elettorale. Ma se si esamina la storia, si troverà il dato storico, che il benessere pubblico è sempre stato secondario ad altri interessi. Di certo, questo oggi lo sanno tutti, giusto? Perché il governo degli Stati Uniti, andando contro gli interessi pubblici, ha permesso al sistema bancario privato, un sistema che in realtà non crea nulla, di essere salvato con la somma di 13 mila miliardi di dollari. Lei ha una casa sul mare da 14 milioni di dollari in Florida. Lei ha una casa per le vacanze estive nella Sun Valley. Lei e sua moglie avete una collezione d'arte piena di dipinti da milioni di dollari. Mentre la gente è stata lasciata secco con un debito enorme, perdite di lavoro è un'economia stagnante. Se vogliamo persistere con questo stupido gioco che abbiamo inventato, chiamandolo economia della crescita, in cui il movimento di denaro determina tutto, potrebbe essere una buona idea concentrarsi su ciò che potrebbe realmente aiutare questo sistema economico a funzionare ad un livello accettabile. Pertanto, se si aumentano le tasse sui cosiddetti ricchi, si stanno in realtà alzando le tasse su coloro che creano lavoro. E se l'obiettivo è la crescita del settore privato, il miglior modo per realizzare quella crescita è di lasciare il capitale nelle tasche dei creatori del lavoro. Se quei soldi spesi per salvare le banche fossero stati spesi per alleviare il debito privato delle famiglie, lasciando sperimentare a Goldman Sachs e JP Morgan e a tutte le altre istituzioni finanziarie non produttrici e praticamente inutili il fallimento e la bancarotta che si meritavano, contemporaneamente nazionalizzando l'intero sistema bancario statunitense, l'economia degli Stati Uniti avrebbe potuto avere una possibilità. Perché? Perché le banche non contribuiscono a niente. Le persone con un lavoro invece sì. Se si vuole la crescita di questo tipo di sistema, c'è bisogno di posti di lavoro. Se si vogliono posti di lavoro, c'è la necessità della domanda e la domanda richiede persone che abbiano soldi da spendere. Aiutando il peso del debito pubblico si pianterebbero i veri semi della crescita economica. Per quanto ovvio possa sembrare, molti dimenticano una cosa. Il piano di salvataggio non ha mai aiutato l'economia americana. Ne funziona o funzionerà per aiutare nessuna delle economie sovrane in difficoltà nel mondo. Perché? Perché viviamo in una plutocrazia, non in una democrazia. E l'unico vero potere è in realtà dietro le quinte, non davanti. I poteri finanziari e commerciali non solo posseggono e controllano questo paese, posseggono e controllano l'intero pianeta. E no, non è un complotto. È un disordine del sistema di valori. Finché il simbolo del dollaro sarà associato ad ogni filo d'erba, ad ogni appezzamento di terreno, ad ogni pensiero fugace o invenzione, per non parlare di valutare il merito di un individuo, per il suo diritto alla vita attraverso il lavoro, non dovremmo aspettarci niente di meno. Dal momento dell'inizio dello Stato, associato principalmente al potere del denaro, come guida definitiva delle decisioni umane, quindi come persuasione. Il vero potere è sempre stato finanziario. E quel gruppetto di persone che leggete le cariche pubbliche, hanno anche loro i propri padroni. Non dimenticatevelo. La democrazia è qualcosa in cui crede, per come esiste oggi in America? Mi chiede se io ci creda, se esista. È un po' come chiedermi se credo che esista Dio o il diavolo. Qual è la sua opinione riguardo l'attuale sistema democratico americano? È marcio. È profondamente, profondamente marcio. La democrazia si deve, ovviamente, alla Grecia e alla teoria che alcune persone posseggano il governo. Sta in pratica accadendo nel 2012 in questo paese. Non proprio. È una corporatocrazia. Considerando tutto questo, pensiamo attentamente all'intera questione della democrazia. Dal quando la nostra democrazia ha avuto a che fare con i rappresentanti eletti per, apparentemente, realizzare le nostre aspirazioni per noi, sorge una domanda critica. Da dove vengono queste persone? Perché ci sono loro in TV e non altri? Avete deciso voi che queste persone sono la scelta migliore per competere per un tale ruolo di comando? O avete notato che i candidati favoriti, specialmente alle presidenziali, vengono più o meno fuori dal nulla. E viene data loro la credibilità semplicemente tramite una ripetitiva esposizione mediatica. Il termine democrazia viene dal greco demos, che significa popolo, e krates, che significa governare. Le persone di una certa società esprimono le loro opinioni attraverso i voti e la linea di governo è creata dall'interesse della maggioranza, sempre che il processo sia stato formalizzato nell'antica Grecia e sia stato sempre sancito da allora. Tuttavia, non ci è voluto molto affinché venisse fuori un po' di cinismo, relativamente al metodo in sé. Dato che l'intera base dell'idea presuppone che il pubblico votante sia veramente istruito, abbastanza da sapere quello che sta facendo. Franklin Delano Roosevelt, una volta affermato con lungimiranza, la democrazia non può avere successo a meno che coloro che esprimono la loro scelta non siano preparati a scegliere saggiamente. La reale tutela della democrazia è quindi l'educazione. Winston Churchill, d'altro canto, è stato un po' meno indulgente, affermando «la migliore argomentazione contro la democrazia sta in una conversazione di cinque minuti con l'elettore medio». Il famigerato Mark Twain è saltato inevitabilmente alla battuta finale dicendo «se votare facesse una qualsiasi differenza, non ce lo lascerebbero fare». «Vorrei che chiedeste a voi stessi, se facessimo parte della classe ricca, la classe che detiene gli investimenti, parafrasando Thorstein Weblen, e volessimo salvaguardare i nostri interessi, da ogni interferenza, cosa faremmo?» «Per prima cosa abbiamo bisogno di adottare la prospettiva più ampia possibile. Dobbiamo fare in modo che il pubblico votante sia quanto più possibile disinformato riguardo alle questioni rilevanti che potrebbero essere in contrasto con l'esercizio delle nostre istituzioni. Insieme a ciò, dobbiamo anche cercare di eliminare il più possibile il pensiero indipendente, logico, causale e scientifico. Quindi, sosteniamo un sistema pubblico di istruzione estremamente adattato, sottofinanziato e carente, un sistema focalizzato solamente al fine di dare un giorno un lavoro ad una persona e non ad insegnargli come pensare criticamente e logicamente. «Il cuore della democrazia risiede veramente nel presupposto basilare che la gente sia ben istruita riguardo al pensiero critico. Sanno come pensare riguardo alle cose e valutare e quindi possono prendere decisioni appropriate, giusto? Qual è la tua opinione sull'educazione americana e del suo effetto sul processo democratico?» «Penso che abbiamo diversi problemi riguardo all'educazione in America. Per prima cosa, penso che abbiamo a che fare con l'instupidamento dell'America.» «Pensa che questo sistema educativo povero, in realtà beneficia il governo?» «Assolutamente, assolutamente. Manteneteli stupidi, intratteneteli in maniera disinvolta. Se sono disinformati non possono combattere.» Tuttavia, per rinforzare ulteriormente questo, abbiamo anche bisogno di spingere e premiare sistemi di opinione che supportino l'obbedienza passiva. Sistemi di opinioni e di valori che siano tenaci, irrazionali e che promuovono la chiusura mentale. La religione si rivela molto utile in questa circostanza. «È possibile che la religione sia politicizzata e che i candidati la stiano usando come uno strumento?» «Io sono convinto che Dio abbia creato l'universo.» «E ci è stato imposto dalle scritture e da Gesù di opporci a tutto questo con tutte le nostre forze.» «Non dobbiamo pregare che Dio sia dalla nostra parte in guerra o in qualsiasi altro momento, ma dobbiamo pregare di essere noi dalla parte di Dio.» «Che Dio benedica la chiesa avventista del settimo giorno.» «Penso che il Dio che ci ama, il Dio che ci ha dato la vita che ci ha dato il nostro essere.» «E così per ogni marinaio, soldato, avviatore e marine che è stato coinvolto in questa missione, lasciatemelo dire, state facendo il lavoro di Dio.» «Se le persone vengono educate per essere obbedienti e allineate, saranno pronte per estendere quell'obbedienza a quelli che pretendono il comando.» «Spunta.» «In seguito è molto importante che riconosciamo una caratteristica della condizione umana sociologica e unica, qualcosa che chiameremo psicologia del gregge, cioè la tendenza per noi umani ad aggregarci alla folla e a comportarci spesso in modo estremamente sconsiderato.» «Con le parole di Charles McKay, famoso autore di «E straordinari popular delusion and madness of crowds», «Gli uomini, è stato detto, pensano in branco, ma in branco impazziscono.» «Ritorveranno la loro ragione solo lentamente e presi uno ad uno.» «Gli uomini,